I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ma quale Mona Lisa, Dominic Fee, che noi oggi parliamo solamente del Cristo velato e delle altre bellezze che abbiamo visto nella città che ci ha ospitati per l'appunto Sabato e Dominic. Guarda, tutto torna. Torna, turnic. Però di questo parliamo tra poco. 733, la linea è passata a Roma. Ma grazie a Ivitiello e anche di voi, parliamo tra poco, per averci intrattenuti. Tra l'altro, grande tempra e grande fibra, eh, ragazzi. Grande fibra, abbiamo visto, anche perché sono stati degli ottimi padroni di casa. Straordinari. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, non mettere il carro davanti ai buoi. 3-4-2-0-0-0-0-700, facciamo tutto per Benino, lanciate voi la sigla. 730. Tac, inizia un programma che è una figata pazzesca. Schiccetta figa alla mano, pronti per una giornata che sarà, mamma mia. Uè, testina. Pica, sei anche a pettinar le bambole, sei sulla cadrega. Nei sei anche a laudare. E ti lancio sta sigla. Sigla. Lunedì, 11 settembre 2023, questa è Radio DJ. Cantala, patrini. Buon giorno. Fa tutto bene. Ma gonfie bene. Il trio Medusa. Tintese. Motocicletta. Riesci a capire. Tipo tutto a po'. C'è il trio Medusa, quindi. You don't stop. Canzoni travisate sembrano. Vicky Piot. Tre culattoni. Una quota rosa. Ora senti come suona. Comincio la mattina. Tu ti culo la balena. Come dice Lino. Porca puttana. Se mi chiedi come va. Fa tutto bene. Se mi chiedi come va. Ma gonfie bene. Se mi chiedi cosa sono. Il trio Medusa. Se mi chiedi come va. Tintese. Medusa, l'ascolto. Bentornate da parte di Giorgio. Gabriele. Buongiorno anche a Veronica e alla Stella Camilano. Buongiorno Patrizio. Meno male che ci siete voi. Io avevo completamente dimenticato che questa è la settimana in cui si lancia la sigla facendo gli accenti in maniera orrenda. Credo che quest'amico sia pugliese. A occhio e croce. No, no. No, napoletano. Un napoletano che faceva il milanese. Lo ha specificato lui. Bravi, mandate anche i curriculum. Specificate cosa state facendo. Se no, potremmo non arrivare. La cadrega, vabbè. Aldo Giovanni e Giacomo. Guarda, vedi, tutto parla di Napoli, ragazzi, oggi. No, è troppo. Un po' troppo. Base Napoli. Sì, base Napoli. In realtà è una città strana in cui l'immagine che uno ha è anche aderente poi a quello che incontri. Cioè, incontri veramente il tipo vestito da pulcinella, cornetti ovunque. Cioè, quel folclore lì lo respiri. Tu dici, sai che c'è? Vado a Napoli, per una volta abbiamo due conduttori napoletani, Gianluca e Nicola Vitiello. Ragazzi, ci pensano. Perfattamente. Faranno da Cicero. Ci porteranno in giro. Sembravano, che so, il Calboni a Courmayère. Ma quale albergo? Io qui conosco tutti. Faranno a gara ad invitarci. Ad invitarci. Il dubbio ci doveva venire quando sono stato investito nella ricerca del ristorante di sabato sera. Perumano, ricordiamo che sei di Roma, è vero che hai lavorato a Napoli, ma sei di Roma. Tanto tutti abbiamo l'amico che tu dici, di dove sei? Di Torino. Perfetto, allora mi accompagni tu, mi porti tu nei posti. Ne ci penso io. Gianluca e Nicola Vitiello sono esattamente quel tipo di persona. Non sanno un cazzo a Napoli. Ma niente. Ma niente. Ma non conosco nessuno. Ci sono dimenticati tutto, ti dico solo. Loro chiedono a me, dice, ma sai dove andiamo a mangiare? Dico, guarda, so che Gabriele ha prenotato in zona Castel dell'Ovo. Mi guardano e fanno, Castel. 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 E per un Romano dire Trastere, un Milano dire Isola, che ne so. Dico, Dico. A me Gianluca mi ha detto, bello qua, io non ce l'ho mai stato. A pranzi, a mangiare. Spero, spero, spero. Quindi c'è il mare. Quindi c'è il mare. C'è che il mare è questo. Davanti proprio all'albergo avevamo la famosa limonata a coscia aperta. Tra l'altro trovate documentazione della nostra due giorni su tutti i social. Matteo Curti, ragazzi, ha fatto sciambo. Ha sciacquato. Che cos'è la limonata a coscia aperta? È una limonata fondamentalmente limone, acqua gasata e bicarbonato che devi bere a coscia aperta, se no ti sbrotoli tutto, per forza. E lui è arrivato, Nicola Vidal è arrivato e ha fatto, Uè, ciao Donato! Ma che cazzo stai dicendo? Ma io non sono Donato. Ma io non sono Donato. Quella scena è figlia già della scena, eccetera. Allora si sono sentiti tutti a dire, ah, Ricordi, ma qua dove? Tu dicevi qua si mangia bene, ma qua c'è il Cristo. Niente, a un certo punto fanno i figli. Fanno i figli. Qua giochiamo in casa, qua il gabbiotto conosciamo. Il gabbiotto, questo. Uè, Donato! Ma che cazzo te conosci? Gianluca Vitiello, non puoi mettere Google Maps per andare a vedere il Cristo velato. Ma è di qua, è di qua. Ma poi niente, non conosco nessuno. Noi entriamo ormai nei posti, perché noi siamo un po' partenopei, però insomma ti regalo. Alla fine giustamente la gente dice, Gabriele, ma tu la strada la conosci? E io dicevo, yes I know my way. Ragazzi, arriva Pino alle 737. 342 00 00 700, questo è il nostro contatto. Oh, tra poco parte il fanta meteo di Enrico il Bagnino. Vi spieghiamo cosa fare, ma intanto se andate sul nostro account Instagram è piuttosto intuitivo. Su il volume e giù il finestrino. Radio DJ è anche in podcast. On demand, dove vuoi, quando vuoi. Bravo, brava, brava, brava. Hai detto anche calore, perché ha fatto uno cazzo di caldo ieri. Ci stavamo per giocare il povero Giorgio. Qualche difficoltà per un calore c'è stata. E c'è voglia di cantare ragazzi. E poi dopo voglio ricordare ufficialmente che questa sera alle 20 e 25 riparte Don't Forget the Lyrics sul 9. Tanti messaggi al 342 00 00 700 di persone che si sono affidate a locali che dicono No, no, ma so tutto io, ti porto io, ti porto a mangiare io. L'amico che tu pensi vivendo, sì, in quel posto conosca il minimo. Guarda, il minimo sindacale per farti passare una giornata. La modalità calboni, ragazzi. E giustamente qualcuno ci ricorda che il donato scambiato per il tipo che faceva le limonate è un altro. Il donato è quello del panino con mollica o senza. Eh, ma certo, ma certo, assolutamente. No, no, infatti questo... Dove è stato Nicola? Dove è stato Nicola? Nicolino c'è stato, Matteo Burdi, lo fa tutta la storia. Poi se c'è un altro messaggio, non ricordo, no, era giusto, era uno che cantava e una che... Oh, se c'è una cosa che uno può sbagliare, la sbaglia, ci puoi scommettere, guarda, così arriviamo direttamente all'idea che ci è venuta per fare la sfida contro Enrico. Alla fine abbiamo detto, siamo solo noi tre, vince sempre lui, non è bello. Aumentiamo, come dire, il numero dei partecipanti. Il carnet dei partecipanti, la gente con la quale Enrico può fare la sfida, è chiaro, con noi tre è molto facile, anche perché lui in realtà legge, no? Certo, è facile, le sale cose. Quindi adesso, se andate sull'account Instagram Triomedusa, potete partecipare al Fantameteo. Come funziona il Fantameteo? È un gioco semplicissimo. È un gioco semplicissimo. Allora, sul nostro Instagram trovate la sfida, cliccate su gioca e accederete a un form dove dovete scegliere... Allora, oggi giochiamo con la temperatura di domani alle 7.30 ad Ancona. Quindi dobbiamo tutti fare una previsione. Ok. Ok, la farete voi e la farei Enrico. Noi tutti quanti giocheremo contro Enrico. Quindi mille contro Enrico. Mille contro Enrico. Vediamo se riusciamo a vincere. La differenza con l'anno scorso è solo che prevediamo il tempo che ci sarà domani. Non dovete verificare. Adesso, adesso. Dovete voi giocare alle 7.30 domani ad Ancona. Allora, dovete scegliere la temperatura. Avete queste possibilità. Minore di zero, tra 0 e 10, 11-20, 21-30, 31-40 e maggiore di 40. E l'altra possibilità è la previsione meteo, che può essere sereno, poco nuvoloso, nuvoloso, pioggia temporale, nebbia o neve. Cioè, ci sono pulsanti da cliccare, quindi è proprio facile. Il fanta meteo, sottotitolo, Enrico davanti, gli dietro tutti quanti. E siamo mille, ragazzi. E siamo tanti, eh. La penitenza la fa solo Enrico. Giustamente la stella si domanda. Cioè, se vince Enrico, siamo a posto così. Se Enrico perde, il sabato farà il jukebox umano. Cioè, voi potete chiedere ad Enrico di cantare una canzone. Per una canzone, per un motivo, magari una ricorrenza, un matrimonio, insomma. Però è difficile, eh. Cioè, io sono già la mia preferita. Nenna, io voglio 99 Lufballon cantata da Enrico. E deve fare il video quello da Enrico. Il video quello strano. L'importante è che sia un video. Si può scommettere su tutto, ma il, per esempio, il Fanta Sanremo. Quando nasce, Veronica, sei riuscita a risalire a una data? Non c'è una data vera e propria, credo. Allora, sul Fanta Sanremo, in realtà, c'è un'evoluzione continua. Il primissimo ad aprire le porte a questi Fanta Sport. Sì, 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 il Fanta Calcio, certo. C'è un'evoluzione anche lì. È stato il Fanta Calcio. È Fanta Calcio. Introdotto dal giornalista Riccardo Albini, negli anni, nel 1990. Ah, proprio il 1990? Sì, sì. E lui ha preso ispirazione dal Fantasy Baseball. Vedi, il Fantasy Baseball, esatto. Che era questo passatempo che arriva dagli Stati Uniti. Ora, gli sport su cui c'è il Fanta sono praticamente tutti. Ah, su tutti. Fanta Tennis, Fanta Sci, Fanta Ok, Fanta Ciclismo, Fanta Basket. Fanta MotoGP, sì, sì, tutto. Fanta MotoGP, Fanta Formula 1. Poi c'è stata l'evoluzione anche sui programmi televisivi. Quindi, Fanta Sanremo, Fanta Eurovision. Scusami, c'era il Fanta Eurovision? C'era il Fanta Eurovision. Non era previsto che so che Mara Maionchi dicesse una parolaccia. Cioè, quella era da quanto la dà? Ah, sì, ah, sì, c'era tutto. C'era tutto. E non ci avete detto, ma... Ci può essere la questione locale, perché se l'Eurovision ha le sue 26, 27, quante sono? Ecco, e poi c'era la versione, quella internazionale. Eh, no, mannaggia, ma a saperlo io dicevo delle cose solo per voi, per farvi vincere, no? Diciamo che i miei preferiti, oltre a quelli, beh, poi ci sono quelli sui programmi TV, sono il Fantacitorio. Fantacitorio? Fa pulare punti in base a dichiarazioni e azioni dei parlamentari. Bello! Questo è bello! E il Fantaprof, che è di tendenza all'interno delle scuole. Ah, giusto. Quindi ogni scuola ha il suo. Bello, bello. Ma vuoi mettere che non ci sia il Fanta in ogni comitiva? Per esempio, noi abbiamo il Fanta Patrizio Mattei. Certo. Entro che ora della serata dirà, mamma mia! Noi diciamo sempre, dopo il secondo disco, perché si deve caricare, no? Perché dal terzo in poi è tutto in discesa. Ma poi viene fuori la verità, quindi giocatelo subito, mamma mia! Ed è per questo che impalla anche la camera, per non far vedere la faccia della gente sotto. Il Fanta... beh, sì, ci segnalano che esiste anche il Fanta Morto, è vero. Sì, sì, sì. Troppo sì. Ma cosa è un po' più divertente. Vabbè, però esiste, esiste. Ne diamo conto, ne diamo conto. Esiste. Si può scommettere su tante cose. Dal 2016 i Fantasport sono stati legalizzati e sono quindi considerati un nuovo prodotto nel mondo del gioco d'azzardo. Ok, perfetto. Ovviamente, si fa delle scommesse. Ma per esempio sappiamo che in Inghilterra si può scommettere su tutto, no? Cioè anche sui colori. Sì, sì, sì. Anche su... Per esempio. Che non so, come entra in campo un giocatore, se ha un accessorio o no. Assegnazioni di premio, addirittura sedi di quartier generali di nuove multinazionali. Ma va va. Si può scommettere su qualsiasi cosa. Facciamo una cosa. 3, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 700. Vediamo se la stella trova qualcuno che ha scommesso su una cosa del genere, o anche se volete segnalarcelo, con un breve messaggio audio. Va bene così, Veronica? Sotto i... Ma scusate, perché non facciamo il Fanta chiamate Roma? Ci avevamo pensato. Ci avevamo pensato, però poi noi se sappiamo... Non dobbiamo sapere le cose. Però un pochino la migliorata. No, la corretta, la corretta. Ha lavorato tanto quest'estate. Quindi, diciamo, da punto di vista fonetico e... Si, è migliorato. Sul plagio. Ha lavorato. Si è stirato, si è stirato. È una forma di adullazione, ricordiamo. Se ne esci così, no. Ma questa cosa... No, no, no. Li ammiro molto. Abbiamo parlato di Napoli. Qua non sapete, qua ne fa anche una parte di Napoli. È tarocca. Ah, giusto. È per quello. Secondo me, James Blunt conosce Napoli meglio dei Vitiello, per farvi capire. E abbiamo detto, Fanta Meteo, apriamo ad Ancona tirata d'orecchia. Avete ragione. Ciao ragazzi. Comunque si dice in Ancona. In Ancona. Ma sul web. Enrico, buongiorno. Buongiorno, eccomi qua. Allora, i nostri mille su Instagram praticamente hanno già votato. Stanno già votando, quindi. Allora, secondo te, domani alle 7.30, che tempo ci sarà in Ancona? Conosci le categorie, le hai viste, non le hai letto, quindi... Sì, beh, comunque. Temperatura, vai. Beh, temperatura, quindi alle 7.30, no? Sì, sì, sì. Allora, secondo me, domani ci saranno sui 16-17 gradi. Quindi tra 11 e 20. Ok, 11 e 20. Poi, situazione meteo, sereno, poco... No, domani sole. Sereno, sereno, sereno. Ok, perfetto. Dobbiamo tradurre quello che lui dice. Cioè, nuvolaglie, cose. No, farsi più semplice. Ha finito le supercazze, eh? Perché adesso è preciso. No, adesso è un gioco vero. È difficile, perché prima noi, vi ricordo, chiedevamo la città, passando quei 3-4 secondi, sentivi la mano sulla tastiera ed andava preciso. Amici di Inancona, domani alle 7 e un quarto, mandateci un messaggio in dialetto che apriamo proprio con voi, o meglio lo facciamo sentire ad Enrico e capiamo se ha vinto o se ha perso. Dai che oggi è facilissimo, Enrico, dai. Semplice, semplice, dai. Sì, adesso iniziamo abbastanza facilmente. Anche se volevo dire agli ascoltatori che io del fantamento sono venuto a conoscenza adesso. Quindi indietro che non è che... Eh beh, che devi sapere? Non sono stato avvertito di come sarebbe successo. Che devi sapere? Vabbè, ma che devi conoscere? Non devi solo fare una previsione. Intanto scaricati 99 a Luz, ma l'unse testo. No, in effetti adesso, allora facerate prima dire, canti tutte le settimane, così. La vedo dura. Tanto già mercoledì sappiamo se hai vinto o sei perso. Settimone sul 3-0, giovedì, inutile farlo, dai. Ci potrò organizzare. Per il tempo andiamo bene, appunto, l'ho già praticamente detto, perché c'è l'anticiclone che pompa, diciamo, dall'Africa, però si sta abbassando un po' di latitudine, perché dall'Europa centrale comincia ad abbassare un po' la cresta, ecco. E per cui poi nei prossimi giorni il Nord ne risentirà. Intanto oggi bel tempo, comunque temperature sempre piuttosto elevate le massime, direi nubi veramente poche da cercare con l'anternino, giusto magari sulle Alpi e poco altro. Quindi, insomma, giornata perfetta, possiamo definire. Perfetto. Easy, busy, lemon, squeezy, si dice da un'altra parte del mondo. Grazie Enrico, a domani. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. Dua Lipa, Death's the Night. Avete visto già tutti i Barbie, quindi vi possiamo dire, possiamo fare spoiler. No, ormai sì, è andato. Sì, però hai già detto che lei muore. Lei muore. Eh, lei muore. Ma poi rinasce, esatto. Tanto le bambole, no? In realtà, come ci ha segnato Toy Story, i giocattoli vivono di vita propria, ragazzi. Sai che da quel film, io un po', quando vedo adesso, o mia che sta giocando con le mie macchinine, perché ero riuscito a conservare due macchinine, e penso che quelle macchinine sono felici perché il fatto che mia le stia radendo al suolo. Lei non ha capito che le ruote servono per farle scorrere. Lei le usa come tamburo. I bambini così fanno, eh. Io avevo tutti gli ammortizzatori, sembravano veramente tutte macchine che erano state utilizzate malamente sui dossi. Se vuoi, dalle a me, che io a 52 anni ancora gioco. Giochi, voglio. Sì, voglio. Ma chi io voglio. Però appunto, differentemente dai bambini che non leggono le istruzioni, non sanno come funziona l'alloggio. I bambini e il Giorgio. No, io, appunto, tutte le cose le uso come vanno usate. È certo. Per cui siamo adulti e le usiamo così. Ma la macchinina è una macchinina, però. Noi facciamo il Fanta Giorgio, cioè quanto ci metterà ad accendere un oggetto è, noi diciamo, due giorni, perché lui è così. Buongiorno, grazie per il vostro acquisto. Prego. Prego. Lo risponde anche alle istruzioni. Certo, certo. L'ibretto di istruzioni ha dei sentimenti, ha bisogno che qualcuno lo legga. È come i giorni di tue storie. Sta avendo grande successo il Fanta Meteo, cioè voi, tutto il pubblico di DJ, e sono tanti, contro Enrico Il Bagnino, basta andare sull'account Instagram Trio Medusa e decidere come sarà il tempo domani alle 7.30 in Ancona, secondo voi. Beh, decidere, prevedere. Poi sarà una scommessa sul tempo. La grande novità di quest'anno è un pizzico di onestà in più del Trio. Esatto, esatto. Il tempo sarà quello, non possiamo più bleffare. C'è uno che ha votato neve. Tu, uno ha votato neve. Metti che il Fanta Neve, quando nevicherà la prima volta? Senti qua, 342-0000-700, quanti Fanta avete? Praticamente io e il mio gruppo di amici abbiamo fatto una specie di Fanta Car, ovvero abbiamo scommesso sulle macchine, su quale macchine dei nostri amici si rompe prima. Ah. Quindi vediamo, spero che non sarà la mia. Fanta Car, è bello. La vedi che rompe prima è bello, Fanta Car, è molto bello. Ancora. Ciao Trio, Filippo da Piacenza, volevo dirvi che sono 32 anni che con la stessa compagnia, gli stessi amici, giochiamo a Fanta Calcio, credo sia il record nazionale, se qualcuno vuole smentirci. Anche perché il Fanta Calcio c'è da 33, quindi 32 è da subito. Però lui dice giustamente con la stessa compagnia, quello è più, diciamo, non abituato. Perché si fa l'alba per fare l'alba. Ah ma guarda che noi che ho partecipato per due anni a quella di DJ, a casa di Linus, che è la cosa più bella del mondo. Finire super al codice a casa di Linus, che era l'obiettivo nostro. Fare la pipì in piedi a casa di Linus, col sempre uretra bisettrice, ricordiamo. Mi fai pisciare. No, uretra traditrice. Traditrice. Mi fai pisciare. Mi fai pisciare a bisettrice. Ancora. Confermo la famiglia di mio nonno materno, le bambine, mia nonna. Mentre lui era ufficiale di Marina, l'ultima assegnazione di Porto era Ancona, si dice in Ancona. Una piccola puntualizzazione su Ancona. Grazie Francesca Daudine. Ce l'hanno già detto. Ce l'hanno già detto. Ce l'hanno già dovuto a precisare. Daudine ragazzi andiamo nella città che oggi viene in banco. Luca di Napoli, buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno. Iese Sladud. Iese Sladud. Luca, come lo chiamiamo questa lega Fanta che ti sei inventato? Ma guarda, tendenzialmente, io la chiamerei, odio questa parola, mi sa che l'avete capito. Esatto. Un nome preciso non glielo saprei dare, me l'avete fatto unire in mente quando avete lanciato la Fanta tendenzialmente. Fantaverbio se vuoi, che so. Sì, sì, sì. Ma tu dici e scommetti che da qui a mezzogiorno verrà detto più di cento volte tendenzialmente. Ovviamente sul radio DJ. Ah, quindi diciamo tutti tendenzialmente. Perché ci siamo domandati, scusa Luca, durante il disco abbiamo letto questa cosa, dice tendenzialmente. Qua noi abbiamo altri intercalari. Esatto. Voi forse siete un'eccezione o perché a quest'ora i neuroni spettinati fanno ancora colazione e non ci ho fatto caso. Beh, tendenzialmente sì, tendenzialmente credo che qui tendenzialmente non venga detto così. Io faccio molta autostrada, quindi spesso ipnotizzato alla guida, ascolto molto e vi dico che Andy, Michael, Linus, Nicky. Ah, quindi tendenzialmente diciamo i programmi che seguono. Siamo già cinquanta. Lo sai che l'idea non è male. L'idea non è male. Ovviamente per plageria, ho scartato voi per plageria. Però puoi fare il fanta DJ sulle parole che tendenzialmente diciamo tutti più spesso. Guarda, tra l'altro, secondo me, tendenzialmente, io dico spesso tra l'altro, quindi... Tra l'altro, al massimo, in genere, secondo me, come dite voi spesso, l'italiano è importante. Però questo tendenzialmente a me mi rimane sempre un po' sullo stomaco. Mi ci vorrebbe il contapersone e quello degli aerei, sai, in macchina così. Luca, però, giustamente, la stella ci ricorda che tendenzialmente Andy e Mike sono in onda alle 19, quindi sono fuori gioco. Adesso sì. No, vabbè, però da quest'anno. Io mi parlo sempre dalla mattina, insomma, quando erano ancora di mattina e mi succederà così. Luca, allora, oggi ti faccio notare un'altra cosa. Secondo te, tendenzialmente, quante volte verrà detto, durante la discussione, soprattutto lavorativa, ma il tema è... adesso è molto il tema è... ti è capitato? Sì, 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 ma non solo, non solo, ormai ce ne sono tanti. Vabbè, ragazzi, vi ripeto, a me questo mi sta particolarmente sullo stomaco e secondo me vado alla cassa sicuro, perché per mezzogiorno forse verrà detto più di cento volte. Cioè tu dici che tendenzialmente... eccolo! Siamo in ordati, Patrizio. Sono già a 50? Siamo a metastrada. Siamo a metastrada. Già a 50 l'abbiamo fattito. Però ci voglio fare caso, cioè oggi, adesso, quando noi finiamo... Ora adesso mi verrà da dire, tendenzialmente, però voglio sentire, fino a stasera, quante volte verrà detto. Luca, l'ultima cosa, non parlare male di Napoli, eh, mi raccomando. No, 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 voglio impazziate, eh, mi raccomando. Lo impazziamo, no, 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 tranquillo. Ciao, 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 ciao. Alle 8 e 15, su Radio DJ, un brano che tendenzialmente non ci ha fatto impazzire anche quando era uscito, però al 342-0000-700 qualcuno ha esclamato... Mamma mia... Mamma mia... È piaciuto, è piaciuto, è piaciuto. È capito? C'è chi piace e a chi non piace. A me, tendenzialmente, non piace, non piace. C'era qualcuno che voleva fare il fantargatto, quanti dischi... L'antirisca della programma che dava il gatto. Il disco miato, dobbiamo spiegare il disco miato. Il disco miato, è bello, bello, ma poi lo dai al gatto. Dopo un po'. Il sentore di croccantino al pollo, che è una delle cose più puzzolenti, tendenzialmente ti rimane l'odore sulle mani. Sei contento? Sentiamo un po' di vostri Fanta, perché prima con la telefonata non abbiamo ascoltato i messaggi che erano bellissimi. Per esempio... Luca da Roma, noi con gli amici più intimi abbiamo fatto il fantacalvo. Fantacalvo! Scommettiamo a chi perde prima i capelli. Come nome pure è bello. Già a 16 anni devi cominciare a giocare, perché con i miei amici si giocava presto. Ma è facile, basta guardare il papà e... No, no, è vero, ma ha perso molti capelli, io al momento, diciamo... Io ricordo un mio amico che è diventato calvo a 16 anni e disse, eh, purtroppo questa è che quando fai il militare col cappello ti cadono. Mi ha chiesto, ma quando... Tendenzialmente succede... Mi ricordo questa battuta epica, saluta Emiliano, sei all'ascolto, disse che hai perso i capelli per il militare a 16 anni. Ma si dice, ma lo devi ancora fare, forse è quella, sono le preoccupazioni. Io ho un amico calvo che sostiene che lui i capelli, lo saluto Massimiliano, non li ha persi, perché lui tutte le mattine li ritrovava. Lì stanno, li metto da parte, li metto da parte. Altri Fanta dei vostri gruppi. Nel mondo delle autoscuole esiste il Fanta Esaminatori. Quanti ne boccerà oggi alla patente? Ciao, Atena da Cassano Primo. Ah, bello, cioè giustamente fanno un range. E quanti? Però vuol dire che tu vai sempre. No, ma perché lei si vede che lavora in una scuola guida. Ah, allora lì. Ancora, vai. Ciao ragazzi, buongiorno. Io faccio la coordinatrice per viaggi di gruppo e nei miei viaggi, che hanno l'età dai 18 e 40 circa, faccio sempre il Fanta Inciucio, anche se lì per lì nel viaggio si chiama in un'altra maniera. E al terzo giorno del viaggio ogni partecipante mi deve dare le quotazioni di tre coppie che si possono formare fuori o dentro il gruppo e poi durante il viaggio quello che succede è storia. Ciao a tutti! Eh, ma come fai a verificare? La verifica, come la fai? Eh, o interroghi o spiro. Beh, ma c'è sempre, soprattutto tra le donne, magari una si confida con le altre. Ma che bastardà! Eh beh. E qui dici, ma scusa tu... No, come ditti voi, scusa? Che gesto fate? Noi abbiamo... Noi no, tendenzialmente abbiamo due possibilità. O abbiamo... Oppure gesto secco con... Diciamo, c'è un'eleganza, una finta caduta, perché devi quasi credere. Voi non posso assolutamente rivelare il linguaggio che diciamo alle donne, è segreto. Tendenzialmente le donne capiscono. Tendenzialmente ci capiamo con uno sguardo. Parlavamo in realtà di scommesse. La prossima ci sembra una scommessa, un filo azzardata. Ah, un pochino. Però, oh, magari funziona. C'è quella della prossima apertura. Ho detto due volte prossima, tendenzialmente. Anche questo potrebbe essere una scommessa. Quante volte si ripetono i termini nella stessa frase. L'apertura di Starbucks a Napoli. Ahia! Napoli, torniamo a parlare di Napoli. Guarda, neanche a farla apposta. Oggi è proprio la giornata di Napoli. E' inizialmente in ritardo la gag. Se non entra, non entra. No, però è entrata bene. Non so che concetto hai di entrare bene, ma non è questo. Quindi neanche ti correggiamo. Guarda, così rimani nell'imbarazzo. Amici partenopei, ma in generale, ma ti pare che non vai da Gambrinos, da Scaturchio? Cioè, la città ti ha avuto il caffè. Però è anche la città delle crociere. Quindi magari lo straniero trova conforto comunque in Starbucks. Guarda, forse in Starbucks vai a prendere una bevanda al gusto di caffè. Perché come ho assistito con gli occhi di questa faccia alla colazione con Linus, che aveva chiesto un americano, e il cameriere non gliel'ha portato. E' addotto a Napoli. Un americano ha già fatto un caffè lungo. Un lungo. Più di questo. Se vuoi dire che è arrivata una stagniera americana e gli ha fatto certo. Certo. Doveva fare la scema. E' un po' strano in effetti. Poi è anche, diciamo, una catena che non è che ha anche l'espresso, se non sbaglio. Sì, certo, però tu andresti a Starbucks a prendere l'espresso. No, prendi il Frappuccino. Il Frappuccino, ragazzi. No, Frappuccino, no Fra Martino, Patrizio. Vabbè, questa è entrata bene. Qua vedi però la differenza. Io ho visto che è differenza. Dieci secondi c'è una differenza. Solo io penso alla storia di Frappuccino e Fra Martino. Io quando leggo Frappuccino, oltretutto, penso più a proprio i film americani. Sembra una battuta. Mi fa un Frappuccino. No, ma è mezzo litro. Il Frappuccino finisce male. La domanda è, anche in Italia riusciranno a sbagliare i nomi sui bicchieri, perché sapete che sembra che lo facciano apposta. Per finire poi sulle varie storie social. Cioè, tu come ti chiami? Giorgio. D'Orio, D'Orio. E lui dice, guardate come ho scritto. A New York è molto divertente girare per gli Starbucks e vedere se ci sono gli italiani. Come si capisce? Facile. Sto cazzo! Sto cazzo! Eccomi! È uno scherzo che va avanti da 15 anni, che fa sempre ridere e funziona. Sapete che io ad Amsterdam ho fatto scrivere DJ Mazzo? Ah sì? È un po' lo scherzo classico, anche uno che ha fatto Ballotelli a Richards, mi sembra, che per chiedere dice, guarda, dimmi qualcosa in italiano per presentarmi a Montella. E lui mi disse, cesta di tazzo. Ciao, cesta di tazzo. Montella, mi sa che Richards non l'ha visto in campo quell'anno, chissà com'è mai. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi. Quando vuoi. C'è un giudizio da parte di Laura Stelline che tendenzialmente riguarda questo disco, ma se volete potete chiederlo direttamente a lei, tendenzialmente siamo d'accordo. Sì, c'è chi sì, chi no, c'è anche chi dice c'è una discreta pompa, l'ho sentito dietro le mie orecchie, quindi... C'è persino chi apprezza l'idea di Starbucks e di aprire a Napoli, poi in realtà Starbucks è molto altro, cioè non è solo caffetteria. No, anche panini. E panini, ma non solo, ma soprattutto tu compri, che so, la tazza, la famosa mag del luogo, no, cioè quindi ti porti a casa, un po' quello del meccanismo hard rock, no, che tu dici in questo posto ci sono state la testimonianza che ci sono state e lo fai tendenzialmente vedere agli altri. E tendenzialmente ogni statunitenza andrà lì. Credo che siamo arrivati già a cento noi, eh. Ci può bastare? Dici. No, no, no. Dici, basta? No, perché tendenzialmente non è importante vedere il luogo, ma che il luogo sia instagrammabile. e sul fatto che sbaglino appositamente i nomi, chi lo sa se è così, però comunque accade, sentite qui. Buongiorno trio. Buongiorno. Noi insieme a degli amici siamo stati a Miami, andiamo a Starbucks, prendiamo uno trappuccino, un cappuccino, insomma adesso non mi ricordo. Il mio amico si chiama Giacomo. Giacomo. Quindi sul bicchiere, what's your name? Giacomo. Ok. Giacomo? No, no. Giacomo. Giacomo? No, Giacomo. 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 Vabbè, insomma, alla fine sul bicchiere gli hanno scritto Jack Love. Vabbè. Da lì il nostro amico non si chiama più Giacomo, si chiama Jack Love. Jack Love è bello. Giacomo. Cioè, è bello. Molto bello. Jack Love è bello. Era in una navicella spaziale diretta. Sì, sì. Sott'acqua anche. È chiaro, avete visto la NASA adesso, ha reso pubblici, pubblici tutti i video. Lui è uno di questi. Tendenzialmente un UFO, diciamo così. Sì, tendenzialmente. Ancora, sentiamo qua. Trio, sono di Napoli, ho vissuto due anni e mezzo a Chicago. Starbucks ce l'ha l'espresso, però comunque è una cioffega proprio. Vabbè. Non mi aspettate il caffè. Lo so, ma se non ci metti voi il cioccolato bianco, il latte di alce, le noccioline. Io ho mangiato una matriciana a Bali cattivissima. Ma credibile. Ma credibile. Ma penso a dire. Starbucks aprirà per appunto, abbiamo detto, un certo tipo di pubblico, poi in realtà fa bevande. Sì, bevande. E mia cugina che vive a New York, per esempio, mi raccontava, pur parlando la lingua perfettamente, che aveva imparato tutto l'iter. Perché ti fanno delle domande in cui, what's up, 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 what's up. E te, buh, non mi ricordo. Come adesso? Infatti, tante volte. Ma questo è mio, lo prendo io e tanto nessuno lo vuole. Anche perché una curiosità, facendo tutte le combinazioni possibili di quello che offre Starbucks, ne ottieni più di 87 mila. Ma va? Quindi non riuscirai mai a assaggiarle tutte. Tutte le varie combinazioni di quello che puoi mischiare. Tendenzialmente, se li assaggi tutti, diventi molto nervoso. Sarà poca graffa. Tendenzialmente. No, no, ci rendi un po' la linea. Ma ragazzi, lo sapete, è lunedì, di solito alle 830 arrivano le canzoni travisate, ma siccome il prof non c'è, Andrea Premignano, oggi mandiamo in onda tutte le travisate che lui ha scarnato. Tutte no, no. Buona parte delle vostre travisate, tanto il grosso, lo sappiamo, siete voi che mandate segnalazioni che non andranno mai in onda. Oggi è il vostro giorno. Che tendenzialmente non andranno mai in onda, perché oggi vanno in onda. Le 837, questa è Radio DJ, lunedì 11 settembre, tendenzialmente la parola dell'estate potrebbe essere Paradise, visto che è contenuta in tantissimi titoli di dischi, non solo testi. Però sarà tendenzialmente, quella dell'autunno probabilmente. Se arriva l'autunno, magari lo saltiamo quest'anno. Lunedì 11 settembre, una giornata chiaramente che riporta alla memoria l'11 settembre, tutti lo diciamo spesso, sappiamo benissimo che eravamo l'11 settembre, è anche un lunedì e quindi è un lunedì un po' particolare perché rinizia Don't Forget the Lyrics, quindi mi raccomando 20 e 25 e poi siccome abbiamo parlato di caffè fatto da stranieri ci segnalano perché non chiamate Francesco Panella, beh questa sera riparte anche Little Big Italy, parte in un modo fenomenale. Lui che va a mangiare in un ristorante italiano e poi fa, vabbè prendi i grissini, legge il menù e poi prende i grissini perché il menù è scritto pure male. Ma tu no, con le foto e le robe assurde. Il lunedì ci sono anche le canzoni travisate. Sai che io adesso ho notato che Veronica ha i sandali al piede scoperto. Sì, perché sapeva che non c'era il previ. È l'unico giorno, oggi, domani è un altro. In assenza di Andrea Premignano, piedi al vento. Scateniamoci. No, allora domani anche noi. Scatemi a fratito. Birkestock. Birkestock brutte cose di questo genere. Allora, queste sono le canzoni travisate che voi avete segnalato e che il previ non ha passato. Male, molto male. Da chi partiamo? Partiamo da Daniele Scatman, Scatman Jones. Bimba Rampo, qua dice Bimba Rampo. Bimba Rampo, Bimba Rampo. Quest'anno è Natale e si passa a fanculo. Bimba Rampo. Tra l'altro le travisate, di solito il previ dice il nickname. Qua non si è neanche impegnato solo i nomi. Nomi di battesimo. Che dice Daniele? Allora, secondo Daniele, al minuto 1.14, si sente Mauro Repetto. Mauro Repetto. Mauro Repetto. è breve è brutta questa aveva ragione noi a differenza del previ l'abbiamo mandato di quello che posso leggere vi dico anche il commento del previ, alcuni non ve li posso leggere di questo ve lo posso dire troppo poco, zero vis comica tutta attaccata al resto questo è il commento tendenzialmente fa cacare perché il previ fa le pagelle sappiatelo lui mette i giudizi non dà un voto andiamo avanti Alessandro Wem di Age of Heaven molto figa qui il previ vi consiglia di andare al minuto 1 e 15 perché Alessandro segnala la frase tu mi turbi e Saverio beh allora è poco chiara però c'è poco chiara la parte di Saverio tendenzialmente abbiamo passato anche di peggio difatti quelle robe culturali che piacciono sono il commento no aspetta ridimmi la frase tu mi turbi e Saverio molto lontano quello è difficile anche fare una storia infatti il previ commenta non nettissima senso compiuto latitante ma cosa sono le pagelle della gazzetta sull'Italia di Spalletti adesso ho capito cosa fa tutto il giorno perché mi domandavo ma perché rimane fino al 18 che mette le pagelle alle vostre segnalazioni anche a quelle che non mandiamo certo ancora Fabrizio Sam Fender use ma qui dovete impegnarvi perché al secondo tre quindi proprio all'inizio dice non fare cover zoomare lo dice adesso io non capisco il previ mi sentiamo la ma ma cos'è su chi ha puntato il previ cosa che non gli è piaciuto non vuol dire nulla non vuol dire nulla virgolette non vuol dire nulla ok andiamo avanti andiamo avanti Laura Casey and the Sunshine Band I'm your boogeyman sai che mi pare proprio ma anche già travisata se non erro ma questo in realtà è un po' un classico un classico anni 70 perché non è l'unica ad averlo segnalato che allo 0,54 dice mangio glutine haha è poco chiaro dai io qui il commento del previ non lo leggo haha diciamo ma vai a farti una passeggiata haha no 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 ma va come faceva le azze bambam bambam quindi queste sono diciamo le migliori delle peggiori ok poi tra poco chiamiamo qualcuno al telefono che ci dirà la sua qual è la prossima cioè su che cosa punta l'ascoltatore su Cristina Aguilera Ginina Bottle Ginina Bottle Cristina Aguilera e poi c'è anche un benbeno e voglio vedere se il previ ha il coraggio di dire quelle male parole al benbeno oh tendenzialmente 3 su 4 c'erano però dai è arrivato il momento di sentire i New Radicals ricordate quelli che vogliono prendere a calci tutti quanti tutti uno per uno uno per uno e alla fine tendenzialmente l'hanno preso loro le 843 questa è Radio DJ chiamate Roma 3131 con il trio Medusa KQS dicevamo le 847 beh tendenzialmente la rubrica è molto piaciuta 342 00 00 700 sentite qui 54 ragazzi tutta la vita le scartate dal previ sono bellissime sono bellissime con i commenti suoi però fate finta che non venga vi prego fate finta fate finta non c'è noi le facciamo fare live no 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 lo chiudiamo fuori e deve ascoltare e subire i nostri pretendo la presenza di Gecio che riprende il nostro richiappatore lui attaccato no non le mandate in onda la sua faccia la sua faccia le reaction le reaction del previ poi abbiamo qualcuno intanto si commentano ah grazie avete passato anche la mia travisata perché erano segnalazioni che erano state fatte perché poi la stessa la stessa segnalazione viene fatta da più persone su travisate che non ci sono è lì che spazientite il previ perché manda tutti la stessa ci spazientiamo poi noi quando lui dice di no a dei ben beni ragazzi dice di no a dei ben beni no veramente ha avuto la faccia tosta oltretutto ci è arrivato anche l'audio di questo bambino su Funky Town Funky Town non ho capito bene cos'è il ketchup perché secondo me è neanche italiano il bambino non è spagnolo sentiamo sentiamo la canta così e al previ non piace non piace perché forse era ketchup sai che lui è un purista tendenzialmente è un purista Andrea buongiorno buongiorno trio buongiorno Andrea non si sa hai chiesto l'anonimato alla stellina oppure è proprio il mio nome è proprio il mio nome e comunque tendenzialmente ketchup c'è tutta c'è tutta c'è tutta c'è tutta c'è tutta c'è tutta le vostre segnalazioni Andrea da dove Andrea da dove scusaci da Como da Como allora che canzone avevi segnalato esprima la canzone sentiamo solo quella a Martini a Ginny LeBattle Ginny LeBattle ok questa è la canzone a un certo punto dovrebbe dire una cosa no? cosa esattamente? Martini innevato Martini innevato Martini innevato Martini innevato che poi attenzione brevi su certa materia no? Martini innevato cioè l'avevo servita là Andrea giustamente dice l'Andrea al telefono dice giustamente coca diciamo alcolico e raglioni di maledetta si sondano si sondano è un po' come il caccio risentiamo un po' questo Martini innevato Andrea è brutta è corta ti dico quello che direbbe il previ tendenzialmente è brutta è corta e neanche c'è tanto è una tavisata bellissima sentiamo però cosa ha detto il previ no dice appunto si sente poco e poi che cazzo vuol dire questo non gliela passo questo non te lo permito questo non te lo permito è troppo una mafia è tutta una mafia è tutta una pastetta è tutta una magna magna alla fine sono tutti amici il cervello inferno elisa03 mi fosti chiamato Andrea Marmiroli e ero subito bravo per quello ha lasciato Andrea senza dire il cognome perché ho paura Andrea tranquillo perché la rubrica le travisate che il previs carta è diventata ufficialmente la rubrica più bella di questa stagione grazie Andrea un abbraccio ciao 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 che colpa ne ho Coez e Fraquintale concludiamo così e abbiamo anche il sì di Laura Stelline le sono piaciute molto le travisate scartate beh ragazzi ormai è storia di questo programma ci basta una volta una volta si faranno si faranno sempre con la assenza del Previniano anche se è presente non può andare in onda lo metteremo in minoranza in un angolo facciamo le reaction qua è un attimo ragazzi da senti un attimo eh mica è detto che è il posto previ un abbraccio enorme grazie a Laura Stelline grazie a Veronica Di Pietro Antonio grazie a Patrizio Mattei c'era Simone giusto a Milano grazie Simone grazie da parte di Giorgio Gabriele appuntamento domani alle 730 qui su Radio DJ ciao ciao Radio DJ è anche in podcast On Demand dove vuoi quando vuoi